La Romania desidera presentare oggi una serie di interventi che sono realizzati da un gruppo artistico famoso in Romania, Bestie e Superbestie, sono degli animali che si ispirano al folklore romeno, per esempio il riccio è proprio una storia che tratta di Dio, di come il riccio ha aiutato Dio a risolvere i problemi, la trama del tempo. Dietro di me si trova il dragone con le ali che è un dragone simpatico, un dragone bonaccione, non è un drago di quelli cattivi che sputano fuoco ma un drago da abbracciare, peloso, piacevole dal tatto. Lì c'è un cuore, si tratta della casetta delle anime, è la storia di Susanna Dan che racconta proprio come ciascuna persona deve ascoltare un'altra perché le persone quando sono tristi devono essere ascoltate per riportare il sorriso alle altre. Siamo contenti di essere per la prima volta qui alla Biennale nell'ambito del Carnevale dei Ragazzi e speriamo di essere tutti gli anni d'ora in poi.